Anni, tu Rosigna stai facendo i panini? Guarda che arretta con il formacino in mano Con i salumi in mano Con i panema di fronte, Cammini Giovanni, diciamo, è il re della pagina Un po' affavato Un po' affavato Manco di attacchi Egoistico No Anni s'accoggia Anni s'accoggia Grazie a tutti.